Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Cariati Web, riprendiamo la nostra rubrica spazio aperto e questa sera siamo con un ospite d'eccezione, un nostro cittadino illustre di Cariati che è Vittorio Tosto. Vittorio Tosto lo conoscono in tanti come ex calciatore di serie A attualmente vive a Lucca dove porta avanti un bellissimo centro sportivo, un'attività veramente di eccellenza, però lui è rimasto legatissimo alla sua città Cariati, ritorna spesso durante l'anno perché qui vivono i suoi familiari, ma so molto bene questo legame profondo d'amore che appunto lo lega al nostro paese. Ecco Vittorio noi ti salutiamo e ti ringraziamo perché veramente hai accettato questo invito di parlare un pochino della tua vita, della tua attività e vediamo un pochino anche di lanciare un messaggio ai giovani di Cariati che magari vogliono intraprendere la stessa tua strada, la stessa tua carriera. Ecco questo legame con Cariati perché è così forte? Intanto buonasera a tutti, buonasera insomma a tutti quelli che ci stanno ascoltando e ci guardano in questo momento, sicuramente ci saranno tantissimi amici che magari non vedo da tantissimi anni e colgo l'occasione per salutare tutti, per fare comunque un augurio di buone feste anche se sono appena passate, però si va incontro alla fine dell'anno e auguro insomma un buon inizio di un nuovo anno che sia veramente bello, pieno d'amore e di felicità per tutti e di salute innanzitutto. Cariati, non è mai andata via dal mio cuore, mai, io sono un ragazzo che insomma ancora per fortuna sono legato alle mie tradizioni, alle mie origini, ho avuto la fortuna insomma di partire via da giovane e da ragazzo, ho vissuto in 18 città italiane, quindi mi sono sempre adeguato nei posti dove ho giocato, dove ho lavorato, però ho vissuto sempre da cariatese perché naturalmente il luogo dove nasci, dove cresci, le viuzze dove mi ricordano la mia infanzia, i profumi, i sapori, quello che sono stato non me li posso dimenticare e cariati per me è tutto questo. Oggi uno dei motivi principali per ritornare comunque è venire a trovare sempre la mia famiglia, il mio papà e la mia mamma purtroppo non ci sono più ma non perdo l'occasione per venire al cimitero e portare un mazzo di fiori, questo avverrà sempre indipendentemente da dove mi porterà la vita, in quale luogo mi porterà insomma al futuro. Io a Cariati verrò principalmente per questo motivo, per stare con i miei fratelli, con le mie sorelle, per crescere insieme i nostri nipoti e fare in modo che insomma anche loro si sentano cariatesi nonostante si vive in Toscana e si vive a Lucca. Il Natale, il Natale è un'atmosfera bellissima, chi forse sono stato uno dei pochi a ritornare in questo periodo difficilissimo a Cariati perché Cariati non sta vivendo un bellissimo periodo, mi dispiace, mi dispiace tanto da morire, farei qualsiasi cosa per riemergere Cariati, per vedere la gente felice, per vedere brillare Cariati sui cittadini, farei veramente qualsiasi cosa e auguro a chiunque di noi che possa ottenere questo risultato perché Cariati ha bisogno di tutto l'amore che noi cittadini possiamo dare. Io nel mio piccolo tutto l'amore che posso dare alla mia terra lo ricambio con veramente con la cariatesità che ognuno di noi dovrebbe avere perché a me se siamo nati in questo territorio, se siamo nati in questo paese un motivo ci deve essere e io ne sarò sempre grato e riconoscente. Ebbene molto bello quello che hai detto, anche il fatto di portare qua i tuoi figli affinché possano veramente riscoprire le sue radici, le radici del suo papà e amare soprattutto questo luogo che merita veramente come hai detto tanto amore. Ecco io per chi non lo conosce bene Vittorio vorrei dire che lui è cresciuto nella Cariatese, si è formato calcisticamente qui a Cariati, però poi nel 1994 ha esordito in Serie A con il Torino, ha indossato la maglia del Torino e da allora è stato veramente un crescendo di successi, di soddisfazioni. Ecco voglio ricordare le squadre, alcune squadre dove ha militato come per esempio la Saleritana, la Sampdoria, il Piacenza, il Napoli, l'Ascoli, l'Empoli perché sia stata l'ultima. Ha fatto parte anche della nazionale Under 21 di Cesare Valdini per due anni, per tre stagioni. All'età di 36 anni però ha deciso di lasciare il calcio giocato e di dedicarsi come direttore sportivo, impegnarsi in questo settore e ultimamente ha una società che è alla ricerca di giovani promesse sempre nel settore calcistico. Ci vuoi parlare di questa tua nuova attività? Sì, dopo aver smesso di giocare al calcio, avendo naturalmente ottenuto una bellissima carriera, sono riuscito insomma partendo da un campo di feria, un campo di periferia come il nostro qui a Cariati, insomma riuscire a giocare negli stadi più belli d'Italia, giocando contro insomma 13 palloni d'oro. La strada è stata veramente lunga, la soddisfazione è enorme perché insomma ho coronato quello che era il mio sogno da ragazzino. Ho smesso nel 2010, ho voluto studiare la materia calcio sotto l'aspetto giuridico, ho preso insomma una laurea in diritto sportivo con la qualifica di direttore sportivo consulente di mercato. Ho investito su una società, la mia, creando una partita IVA, andando a investire su, prima di tutto, le strutture. Ho fatto all'interno dello stadio Portelisa Lucca un centro sportivo che porta il nome di due ex compagni di squadra miei che sono morti, uno è Sandro Vignini e l'altro Massimiliano Fiondella e da lì ho creato una società di consulenza di mercato dove do assistenza per i trasferimenti dei calciatori alle società sportive e prendo i mandati dai calciatori per rappresentarli. Una sorta di procuratore ma un po' più alta dove insomma la società è mia, assumo del personale per poter realizzare quelle che sono le mie idee. Sta andando forte la Green Socher Team che è una mia società, la potete visitare insomma sul sito internet dove ho una trentina di ragazzi in procure partendo dal basso siamo riusciti insomma oggi a stipulare insomma diversi contratti per calciatori che oggi militano sia in serie A che in serie B e tanti sono in serie C e altre tanti sono nei settori giovanili insomma importanti di prima fascia come l'Inter, Juve, il Milan, l'Empoli, la Fiorentina e quant'altro. Questo perché mi piace lavorare con i giovani, mi piacerebbe insomma dare una possibilità anche a qualche ragazzo di poter emergere dandogli assistenza a 360 gradi sotto tutti i punti di vista. Bene, allora quale consiglio potresti dare ai giovani di Cariatti che vorrebbero abbracciare appunto questa strada? I giovani di Cariatti naturalmente sono in cima al mio cuore per un semplice motivo perché mi rivedo il loro. Io da quando sono partito nel 1990 ad oggi ancora tuttora siamo nel 2018 sono passati 28 anni ho sempre dato il mio contributo, sempre, sempre, sempre. Sono stato sempre legato al settore calcio perché fino a poco tempo fa lo sport a Cariatti si è fatto solo calcio. Io ho sempre dato il mio contributo alla Cariatese in primis e poi col fallimento della Cariatese abbiamo fondato Cariatti Calcio con mio fratello siamo andati avanti, anzi volevo fare qualcosa anche di più importante, ho portato un progetto legato alla riqualificazione di un'area purtroppo non è andata in porto, è andata così pazienza senza andare a mettere col tenno nella piaga siamo andati avanti, ancora oggi il Cariati Calcio esiste nonostante insomma mancano purtroppo le strutture ma allo stesso tempo la cosa che ancora mi tiene vivo sul territorio è che comunque un'occhiata io ai ragazzi nostri sul territorio gliela do con la speranza che magari ci possa essere un altro Vittorio Tosto o un altro Francesco Cozza. E infatti quest'anno come sapete tutti il Cariatese non si è iscritto al campionato di prima categoria quindi il campionato regionale è stato cancellato per vari motivi che non stiamo qui a dire cosa risaputa la dirigenza ha ripiegato nel settore giovanile, sappiamo bene che i giovani sono la nostra speranza sono veramente una garanzia per una continuità anche calcistica del nostro paese però a Cariati manca la prima squadra, manca ai nostri tifosi più appassionati l'andare la domenica al campo sportivo a seguire la squadra del paese ecco cosa bisogna fare secondo te per riportare a Cariati la prima squadra come era una volta? Ma noi ci eravamo riusciti, siamo partiti dalla terza categoria fino alla promozione e insomma abbiamo riportato 800 persone al campo sportivo la cittadinanza ha visto i risultati che abbiamo ottenuto con il Cariati Calcio però purtroppo bisogna capire che anche nel settore sport come in altri settori bisogna ritornare a essere tutti uniti bisogna che lo sport sia, è stato un momento di aggregazione importante purtroppo le risorse economiche e anche la vicinanza dell'amministrazione stessa negli ultimi anni è venuta meno ripeto, quello che dico la mia non è nessun tipo di forma di polemica voglio anzi lanciare un messaggio positivo attraverso lo sport e non solo Cariati bisogna ritornare ad essere tutti uniti indipendentemente dai colori o indipendentemente dalle ideologie anche politiche lo sport è un motore trainante io sono stato da solo, io e il mio fratello a parte l'aiuto di qualche ragazzo giovane che conosciamo la storia a parte l'aiuto di qualche vecchiettino che dava un contributo non possiamo sostenerci da solo Cariati in generale in tutti i settori non si può sostenere da solo dobbiamo ritornare realmente ad essere tutti uniti dobbiamo remare tutti nella stessa direzione e bisogna fare qualcosa di diverso che fino a oggi purtroppo non ha dato risultati o forse nel nostro settore i risultati li ha dati ma non ci può essere continuità se ognuno insomma rema per direzioni diverse certo questo è un appello che vogliamo lanciare anche da questi microfoni per il futuro ecco ad essere più uniti verso un unico obiettivo come hai detto prima tu hai sempre avuto a cuore Cariati la situazione dello sport è Cariati ecco l'hai seguita l'hai sostenuta adesso hai in cantiere qualche progetto futuro se ce ne vuoi parlare? penso che naturalmente ho la fortuna di lavorare per me stesso quindi naturalmente vado dietro le mie idee non ho nessun padrone sopra di me quindi grazie a Dio lavoro con le mie idee e naturalmente assecondo quelle che sono le mie volontà quasi sempre quando parto con un progetto lo autofinanzio quindi naturalmente ci metto io personalmente i miei soldi quindi capite bene che vado esclusivamente per la mia strada non nascondo che a Cariati mi piacerebbe riprendere quel discorso legato alla struttura sportiva la cosa che a me mi dispiace perché vengo preso in considerazione in tutte le parti d'Italia dove sono stato a Cariati purtroppo non si riconosce in me in questa materia in questo settore un potenziale forse l'unica realmente che crede in me che ha sempre creduto in me che ha una stima sotto questo punto di vista è proprio tua sorella Sunda Scorpio Unite ha sempre visto in me un potenziale mi ha sempre tenuto vicino mi ha sempre coinvolto ma le amministrazioni chiunque a Cariati dice di avere stima nei miei confronti non sono mai preso in considerazione ma questo non mi interessa mi interessa andare avanti per la mia strada io a Cariati ci sono legato e ripeto e vado avanti per la mia strada tanto è vero che alle ultime elezioni per far vedere la mia vicinanza ancora di più io mi sono schierato a livello politico ci ho messo addirittura la faccia cosa che per me la politica l'ho rifiutata in città come Firenze l'ho rifiutata in città come Lucca a Salerno mi davano l'assessorato allo sport l'ho rifiutato senza neanche fare le elezioni questo per far capire che nelle altre città vedono in me un potenziale trainante verso questa materia Cariati non mi ha mai preso in considerazione ripeto per far vedere che comunque io ci sono e che si può fare qualcosa io mi sono schierato mi sono schierato ma ideologicamente ma l'ho fatto per il mio paese non sono contro nessuna amministrazione assolutamente anzi tifo per l'amministrazione greco spero che possano fare realmente qualcosa di importante perché qualcuno lo debba fare prima o poi e non sto a criticare se in questo momento non c'è Cariati Pulita che è il comitato che io ho sostenuto in queste elezioni in cui ci ho messo anche la faccia non è questo importante è che noi bisogna dare qualcosa e bisogna tifare tutti per il nostro paese è ovvio che le difficoltà ci sono ci sono grossissime problematiche io ho insomma le problematiche sono sotto gli occhi di tutti ma non voglio entrarci dentro io una cosa sola voglio dire Cariati per me è una metafora che spero che faccia capire l'idea Cariati per me in questo momento è come una bellissima donna che è da 30 anni che non si fa una doccia mi piacerebbe vedere il mio paese pulito lavato questa bella donna che magari si possa fare un bel taglio di capelli si possa tagliare le unghie questa bella donna che si possa naturalmente improvumare e perché no mettersi anche un bel paio di tacchi e magari uscire di casa con un bel vestito mi piacerebbe vedere Cariati bella e vestita come si deve e poi vediamo se non è la donna più bella di tutto il ditorane ionico Sì certo la mia domanda era più mirata se hai proprio qualche progetto tuo personale specifico a prescindere dal discorso dell'amministrazione o meno Sì il progetto mio se c'è la possibilità di crescita sul territorio io naturalmente sono disposto perché no a dare il mio contributo la mia materia è lo sport io sono uno che investo nelle strutture quindi a investire in un progetto su Cariati e finanziarlo con la mia società per me è una cosa fattibile però è ovvio non devo essere io a cercare l'amministrazione o essere solo io verso il mio paese deve essere anche l'amministrazione in questo caso che mi voglia perché no tenere in considerazione a oggi ripeto a me a parte Assunta Scorpiniti e i ragazzi delle Lampare poi per il resto nessuno mi ha mai cercato chi mi ha cercato io gli ho sempre detto quindi Vittorio Toste è disponibile a dare il suo contributo professionale naturalmente e anche credo economico se sarà il caso però giustamente ci vuole un po' la sinergia e la volontà da parte di tutti ecco dato che hai accennato al tuo impegno civile con la discesa in campo alle ultime elezioni amministrative del 2016 e che io voglio anche ricordare un'altra discesa in campo molto importante di Vittorio Tosto nel 2012 con l'iniziativa Una scuola per Mirandola ecco anche in quell'occasione non ti sei tirato indietro hai raccolto dei fondi per aiutare i bambini colpiti dal sisma in Emilia Romagna Sì veni chiamato da Rocco Imperatore un ragazzo di Mirandola che lavorava a Lucca in un'azienda importante e veniva insomma nella mia struttura ci siamo conosciuti e mi ha chiesto se poteva era successo da poco insomma il terramoto lì in quelle zone che aveva devastato soprattutto questa scuola lui aveva il nipote all'interno di questa scuola e mi chiese se potevo dargli una mano siamo partiti da Lucca ma questa cosa immediatamente si è estesa in tutta Italia perché lo mandavo nelle società di calcio dove io avevo giocato lui riusciva insomma a coinvolgere i calciatori e il calcio si sa soprattutto a certi livelli è un motore trainante importante da lì in pochissimi anni abbiamo raccolto dei fondi importanti la scuola la scuola è già stata ricostruita ma sta andando ancora avanti perché poi è ovvio io sono servito più che altro a fare da pass in questo settore è stata coinvolta anche Cariati è stata coinvolta Lucca è stata coinvolta poi era Rocco Imperatore che davo io i numeri di telefono e poi lui faceva i passaggi successivi però la cosa bella è che una cosa è nata così diciamo tra due amici è uscito fuori un progetto importante ma ripeto queste sono iniziative belle che si possono fare si devono fare insomma poi quando si ottengono i risultati si ha anche soddisfazione bene bene ecco nella nostra cittadina ecco allarghiamo un pochino il discorso si sta vivendo un periodo molto difficile e delicato dal punto di vista sociale economico e anche politico l'abbiamo accennato ma soprattutto sociale ed economico ecco qual è la tua lettura in generale di questa situazione la mia lettura è chiara anche perché io vivo sul territorio non tutto l'anno però ho le attività io ci tengo a dire che i primi investimenti che ho fatto quando ho iniziato a guadagnare nel calcio li ho fatti a Cariati ho investito insomma la mia famiglia ha un'attività commerciale quindi noi abbiamo il termometro esatto della situazione economica e oggi la situazione sul nostro territorio a Cariati è difficilissima difficilissima sotto tutti i punti di vista la forza che bisogna avere l'ho detto prima bisogna ritornare a fare le cose semplici bisogna dare semplicemente i propri diritti ai cittadini bisogna mettere al centro del progetto i cittadini indipendentemente da chi governa bisogna capire che oggi che siamo nel 2018 i servizi vanno garantiti bisogna fare sacrifici per garantire i servizi ai cittadini siamo arrivati a Cariati la prima cosa che hanno detto i miei figli in macchina che su tutto il litorale ionico ci sono state le luminare che comunque danno colore alla città l'unica cittadina che non ha le luci natalizie è stata proprio Cariati non è una polemica bisogna avere la forza comunque di darla di darla a questo servizio è piccolo è piccolo o tanto non lo so però è un servizio che va dato oggi prima di venire qua a fare questa intervista mi sono lavato i denti con i miei figli l'acqua era nera ripeto io non voglio lanciare un cattivo messaggio voglio far capire che la situazione è difficile bisogna avere la forza tutti quanti insieme di rendere Cariati bella ripeto Cariati ha bisogno semplicemente sarò monotono ma lo ripeto e l'ho detto prima Cariati ha bisogno di ritornare a lavarsi a pulirsi a rifarsi il trucco non occorre secondo me fare il passo più lungo della nostra gramma dobbiamo essere umili in primis l'amministrazione comunale ripeto che ho una stima enorme bisogna tornare ad essere umili a fare le cose semplici non promettiamo la luna cerchiamo prima di rendere Cariati bella poi se siamo in grado di fare un passo alla volta e soprattutto assecondare quelli che sono i passaggi io oggi non capisco il progetto che c'è su Cariati non riesco a vederlo provo a leggerlo ma non lo vedo non riesco i cittadini non riescono a vedere un futuro una prospettiva di futuro di questo non possiamo nasconderci dietro le nostre problematiche qua non stiamo offendendo nessuno non stiamo criticando nessuno è solo un bagno di umiltà che dobbiamo farci tutti i cittadini non vedono prospettiva se il progetto giusto o sbagliato che esso sia ma sia chiaro quella è la strada da seguire e allora tutti quanti noi indipendentemente da quello che sarà la riuscita dovremmo seguire quel progetto lì ma oggi quello che mi dispiace è che non c'è uno o una che indichi la strada da seguire si parla troppo sui social si parla troppo sui giornali si parla troppo senza avere realmente il termosteto della situazione reale che è quella commerciale bisogna farsi un bagno di umiltà dare fiducia all'amministrazione che c'è oggi però l'amministrazione di oggi deve essere più umile e deve fare le cose semplici rendere Cariati pulita più vivibile diciamo è anche una prospettiva di futuro che ci auguriamo tutti che possa essere soprattutto dal punto di vista economico possa veramente portare lo dobbiamo ai nostri figli se abbiamo coscienza lo dobbiamo ai nostri figli allora concludiamo questa nostra chierata con Vittorio Tosto io sono veramente felice di averlo intervistato voglio solo chiederti qual è l'agurio che fai ai Cariatesi per il 2018 per il 2018 gli auguro che Cariati ritorni a essere uno splendore con due cose principali quella che è la pulizia cittadina mi piacerebbe vedere le strade pulite mi piacerebbe vedere cose semplici ma che ci sia ordine e pulizia all'interno del nostro paese mi piacerebbe che i cittadini Cariatesi nel giro di pochissimo tempo ritornassero a fare le festività natalizie il bagno d'estate che ritornassero ad essere più innamorati della propria terra nonostante queste difficoltà e che magari nel 2018 possa perché no ritornare ad aprire l'ospedale che è un motore trainante oltre naturalmente a quello che è la salute l'amore la tradizione la famiglia queste cose qua le metto anche in secondo piano perché queste cose qua grazie a Dio ci sono sono radicate nel nostro territorio la tradizione la famiglia il volersi bene tra di noi ancora sono cose che resistono però il 2008 ci deve portare una Cariati bella pulita ci deve portare la riapertura dell'ospedale e ci deve riportare ad essere tutti chettino tristi siamo diventati un pochettino grigi e speriamo che il 2018 possa portare calore a questa cittadina perché il sole l'abbiamo visto anche oggi quindi il sole ci sarà sempre deve solo risprendere su tutti quanti noi e che possiamo ritornare a essere una comunità normale civile come tutti gli altri grazie Vittorio noi ci uniamo a questo augurio di sole di splendore di bellezza futura e da questi microfoni anche io e tutta la redazione di Cariati Web voglio augurarvi buon anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti